Buon salve a tutti, io sono Roberta e siamo qui con Toyu Che è un'alpaca E quindi non parla Ah parla Per spacchettare la nuova espansione di Arson In questo momento siamo sul suo account Poi andremo sul mio E poi basta Abbiamo un casino di roba da spacchettare Tanta Quindi bando alle cianci, ciancio alle bande Iniziamo Iniziamo con una morte Vai Alessio Tu prendi Faccio io Prendi lo snoto Spirito della morte Dopo che è morto un tuo servitore Il loa sono i dei Degli zambalari Adesso una copia da umano e un altro mazzo Snoto Busandi Che bello Pesca servitori da umano e dal tuo mazzo Finchè la tua mano non è piena Mi chiedo se lo diano a tutti quanti E per il prete Sì Buonsambi Ma è perché dice buonsambi? No perché è il personaggio più figo che c'è in battaglia Eh ma dice buon sabato Ma va No domenica Allora io ho qua 785 di gold e adesso andiamo ad acquistare le buste che ci servono Perdovatemi eh Non l'ho fatto preventivamente però No dovevi cliccare moltiplamente e No non lì qua Tante ne rimangono 5 No 95 Ok abbiamo comprato tante buste 13 13 però Ne ho 13 io e poi la Roberta ne avrà un altro Io ne dovrei avere 18 più 6 Questa è una Io sono già contento con buonsambi tanto qua e infatti qua non c'è un cazzo Stop Però sono belli Immune fino al turno successivo Tutto questo Sono belli dai Mi piacciono i dinosauri A me piacciono un sacco questa espansione perché ci sono gli zandarari Rara Due rare Corso da guerra a mani questa qua è la mount Figo Quello sembra un mimic Sì Però è uno di quei forziere che con i giocattoli Su wow Oh Oh Cannina gurubashi Questa qua è figa Che è carino Mi piacciono un casino ai pacchetti Rara Venditore di zuppa Sono piccolissimo Sono i Tascar Sto trovando un cazzo Quanti ne ho già spacchettati E vediamo quante ne hai ancora Spirito da rinunceronte 8 quindi spacchettati 5 Questa 6 Dai datemi una leggendaria Almeno un'altra su Dovresti averla eh Perché di solito è uno ogni 10 Senti Sei ghettato Poi non sto neanche trovando veranche Carta per il sacerdote Trovato solo Bonsambi Che poi di poco Però Epica Non è epica Non è epica Credo che sarà la migliore fortuna che avrò oggi Doma bestie Quando peschi una bestie La finisce Questa qua è tutte le classi Ma chiaramente la userà solo il cacciatore Niente Questa è doppia Non trovi molti pausa Spirito del pipistrufo Pipistrufo Rip Rip Simpani No rip Snopo user Non mi viene Snopo Oddio Che cazzo stai dicendo Headphone user Ah ok Bello rapto Leggendaria Ma vaffanculo Sei il tuo potere 8 danni col mago In questa partita Se il tuo potere eroe Inflitto 8 danni In questa partita Evoca Ragnaros Ma vaffanculo Che cazzo Ma io non lo uso il mago Neanche se mi pagano Questa diventa polvere Immediatamente Dai non ti potevi aspettare Tutto della vita Cuccio L'ho indifeso Cos'è? Questo qua è fighissimo Non mi piace l'arte Questo qua è fighissimo È bellissimo È tutto È tutto È tutto È un po' Sgnofo È la tua Diagendare L'hai già avuta Eh sì Guarda la mia fortuna È molto limitata Sto trovando un sacco di doppioni Tra l'altro Hai trovato Bonsandy Sì ma quanti doppioni Sto trovando Vabbè Vero anche io sto Andando a te Molti Se adesso L'ottieni anche tu Bonsandy Scoprò che lo danno tutti Bestemmia No perché dovrebbero dare Uno di ciascuna classe Spirito della morte Ce l'ho già Doppio Doppio Triplo E non mi ricordo Basaka Vediamo quanta polvere hai fatto Ho esaurito le mie risorse Creazione 220 220 Niente Ok Andiamo sul mio Io comunque Ho un'arena Oh dio Perché per lei è già Natale Giusto È dicembre Cazzo tra 20 giorni è Natale E' Natale Che c'è online Magari è tuo Ok Ok vabbè Andiamo avanti Spirito della rana Io non l'ho neanche trovato Questo Gra 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 Mi sa che la Roberta gioca a shaman Metti nella tua mano le magie che hai giocato nel turno precedente No palle No palle E' bello Allora Apri il busto Oh no Devi comprarle Ah ma è anche quello della scorsa E' anche quello della scorsa E' superiamole i 40 Dai Allora Ehi Sono quelle dell'operazione apocalisse Sei fuori Fai annulla subito Guarda che se non c'ero io 18 Guarda che se non c'ero io Acquista Allora 24 più 6 fa 30 Più lui tu è 13 Fa 43 No Per una non facevamo 42 Tanto nel titolo metto 42 Vai squalchetta Apriamo quelle di merda Velocemente Adesso magari Becche delle leggendarie Dai su Vai Veloce Queste qua Non frega niente a nessuna Ehi calma Perché il tuo mouse Fa lo snopo Come aumenta la sensibilità La velocità Con Da sopra Con l'indice Una leggendaria L'hai trovata davvero Vai squalchetta Apriamo quelle di merda Velocemente Adesso magari Becche delle leggendarie Io non l'ho nemmeno controllata Fai un po' questa è dorata Dopo che l'avversario ha giocato Ux e la vittoria Mi viene diventata Quindi abbiamo Due leggendarie Per adesso Dai vai 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 Piaggia di raspi Ce l'hai con le rade E' lo sciamano Non è colpa mia Io sono la roba Della classe Che ti hanno dato Io non avessi trovato Quella del sociardote Epica Adesso un'altra leggenda Ma vaffanculo Alazzi da lince Riempie la tua mano Di lince Uno ad uno Con l'assalto Vabbè È del cacciatore Però Dai Inplice due danni A tutti i servitori Ho trovato anche io Lo snufetto L'ecostecco Che bello Lo voglio come bacchè Il leccostecco Lo dai al Scopra Con la giri dietro Ovviamente Mi sa che non la Dobbiamo Allora La leggendaria La leggendaria Voglio una leggendaria Che favore Che favore Che favore Allora Questo è il pacco tui Quindi adesso me la danno Giusto? Lo spero Epica Mi ha dato l'epica Una dorata Due snufe Druido Dovevo con una bestia casuola Dalla tua mano Le fornisce a salto Ma io voglio Ma io voglio Secondo me adesso Non c'è dentro Niente No Non puoi Non puoi Non puoi Uffa Mi dispiace Statisticamente Dovevo prenderne due Lo so Secondo me Adesso hai talmente Tanta Ma non hai Anch'io 229 Ma con chi Quando ne abbiamo Trovate una Due Tre No Tu ne hai trovato Sì tre Non è più di me No No Dico in totale Le due D'entrata Poi io ne ho Trovate due Cinque in totale E tu una Cinque Cinque leggendarie Su 43 pacchetti Non è malissimo Cioè Tre Su 43 In realtà Da pacchetti Sì Sì Allora sì È malissimo Bele gioco Ci hai mentito Doveva essere Una A me Dieci Invece Ne abbiamo Trovate Tre Su Quarante Tre Vabbè Ciao Bimbi Mi è stato Bello Ditemi Cosa avete Trovato Mi raccomando Iscrivetevi Al canale Della Lerobetta E quello Che Tavio Però Lerobetta Ne ha più bisogno Iscrivetevi al suo canale Perché lei è un'alpa Io sono un'alpa Non ho trovato L'alta leggendaria Che mi meritavo Nonostante Avesse tenuto I soldi E poi sto per arrivare Cento iscritti Però non ci sono ancora Cento iscritti Secondo me Ti senti pochissimo Nel mio profile Secondo me Dovrei avere Cento iscritti Perché se arrivo Cento iscritti Faccio un regalo Cioè Faccio Faccio C Gnofi Carta Amazon Regalo De 10 euro Lo chiudiamo Ciao Bimbi Vi ricordatevelo Ciao Ciao Come si fa Ciao 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 Ciao